L'ex ospedale di Cremona, il cui accesso era sito in piazza Giovanni XXIII, si presenta in uno stato di completo abbandono. Dall'esterno, nonostante l'intonnaco sia ormai corroso, non si comprende la gravità della situazione. Da Via Radelli, invece, si scopre il degrado e la sporcizia. Dalle finestre del palazzo di Rimpetto si dontrano grandi quantità di guano di piccioni, che hanno invaso ormai il palazzo insieme ai topi. Per non parlare di un albero caduto sulle vetrate di un'alla dell'edificio, non visibile dalla strada, il distacco delle tecole del rivestimento in plastica dal tetto, le quali potrebbero cadere da un momento all'altro, e la puzza che si sente dalle camere delle case di fronte. L'insalubrità della zona è palese se si guarda all'interno dell'edificio abbandonato. L'edificio è completamente faticente da anni. Il comune ogni tanto rattoppa, come vedete, con alcune impalcature, chiudono le finestre con del compensato. Dopodiché si dimenticano, il guano di piccione si accumula da anni, nessuno sembra interessato, anche facendo le dovute segnalazioni. Ci sono anche altre criticità, come alberi tegolè? Ci sono degli alberi caduti che non si vedono dalla strada, ci sono tetti vecchi che tendono a cadere, strutture interne fatiscenti che tendono a crollare anche quelle di legno, piccioni ovunque che volano anche ovviamente dall'altra parte della strada sulle nostre case, per cui diciamo criticità ce n'è. E come esalazioni, diciamo, ci sono problemi anche in questo senso? Quando piove si sente un forte odore di guano, quando c'è tanto caldo si sente odore di guano, perché comunque i vapori ci sono, e c'è puzza. Nessuno si interessa della cosa, anche avendo parlato con persone in comune, nessuno è interessato. In realtà l'amministrazione comunale ha espresso il suo interesse verso il vecchio ospedale, che trasformerà in un luogo dedicato ai giovani entro il 2027. Nel frattempo però il luogo potrebbe essere perlomeno sanificato e messo in sicurezza per salvaguardare i cittadini.